Ben trovati anche per la nostra pagina sportiva, iniziamo dal basket, altre due giocatrici, due azzurre che hanno vinto con i giovanili i campionati europei che arrivano alla corte delle Mura Lucca. Primo impatto con la realtà del basket Le Mura Lucca per le classi 2001 Alessandra Orzili e Silvia Pastrello, due delle quattro giocatrici bianco-rosse, le altre sono Giovanna Elena Smorto e Sara Madera che si sono laureate campionesse d'Europa in questa magica estate 2019 per le selezioni giovanili azzurre. Le cestiste sono state presentate ufficialmente e da mercoledì 21 agosto inizieranno la preparazione con le compagne agli ordini di coach Francesco Iurlaro. Sicuramente è un'opportunità che non potevo lasciarmi scappare perché ovviamente si fa il salto di qualità, poi essendo una squadra giovane è ottima per provare a fare il saltino a uno, conoscevo già Francesco Iurlaro l'allenatore e conosco lei e siamo molto amiche e sì mi ha spinto appunto a provare a fare questo salto di qualità e secondo me era l'ambiente migliore per poter iniziare la mia esperienza in A1. Credo che noi e Lucca ci corrispondiamo perché siamo due giocatrici che sono molto disposte al lavoro e la società sembra rispecchiare questo valore e quindi noi siamo pronte, l'occasione è quella giusta e finiremo la scuola insieme se la scuola dovrebbe essere un problema e per quanto riguarda la nuova avventura nella massima serie in bocca al lupo a noi non posso dire nient'altro. Andiamo alla Lucchese, notizie di calcio mercato, la Lucchese ha preso il terzino sinistro classe 99 Mattia Lucarelli figlio dell'ex bomber del Livorno Cristiano, era approdato alla San Cataldese dal Livorno in serie D, aveva avuto anche un'esperienza con il Viareggio nell'ambito di questo passaggio, domani la Lucchese disputerà una amichevole a Tirrenia contro il Livorno, formazione che milita in serie B, ma la partita che inizia alle 17 sarà a porte chiuse per volere della formazione a Maranto, ancora calcio mercato, sono arrivati altri giocatori, il portiere Andrea Fontanelli che era già in prova qui a Lucchese, classe 96, ha giocato nel Siena, nel Giviborgo e nel Prato e ha acquistato anche un altro portiere della classe 2003, Pier Cataldo Forciniti che è stato prelevato dal Rende e l'attaccante Serigne Ousmane Gayet, nato in Senegal nel 2000, l'anno scorso, una delle colonne portanti degli Juniors del Savona che è arrivata agli ottavi delle finali nazionali. Adesso il calcio dilettantistico, sono usciti i gironi dell'eccellenza. Il Comitato regionale toscano della FIGC ha reso noto i gironi che vanno dall'eccellenza alla seconda categoria, nel girone A sono inserite le quattro formazioni della nostra provincia, il Castelnuovo Garfagnana, il Camaiore, il Tau Calcio e la neonata Virtus Viareggio. In attesa di verificare se andrà giunto alle 16 squadre anche il Viareggio 2014 che ha inviato lunedì pomeriggio il ricorso per essere ripescato. Per adesso, come detto in questo girone, c'è la neonata Virtus Viareggio che ha rilevato il titolo sportivo del Montignoso e che ha cambiato nome proponendosi come nuova realtà calcistica della città. Tra le altre formazioni ci sono il Camaiore che sta costituendo un complesso pronto per recitare un ruolo importante. Scorrendo il girone le altre squadre che vi troviamo, la Massese che dopo varie peripezie dell'ultima stagione è riuscita in qualche modo a ripartire, il Castelnuovo Garfagnana, altra squadra con trascorsi anche in Serie C, la Coyopelli, formazione che è sempre stata tra le protagoniste dei campionati. E poi nella provincia di Lucca, come detto il tau calcio Alto Pascio che ha unito le forze come del resto hanno fatto altre realtà per riuscire a sopravvivere. Il campionato prenderà il via domenica 8 settembre. Il primo settembre però si comincia già con le partite ufficiali della stagione, con il primo turno di Coppa Italia della fase regionale. Il ritorno è fissato per mercoledì 11 settembre. Gli accoppiamenti prevedono Massese, Virtus, Via Reggio, Camaiore e Castelnuovo. Si parte subito con due derby interessanti che possono servire per dimostrare ad una settimana dall'inizio della campionata che punto di preparazione sono le squadre che poi dovranno cominciare davvero a fare sul serio.